Schiavitù e libertà In questa festa dell'amicizia vorrei, con il vostro permesso, rendere omaggio al generale Ejoshi, comandante delle forze armate indiane, spirato ieri. In questo momento le fiamme stanno consumando il suo corpo, Adeli. Il governo indiano ha perso uno dei suoi soldati più efficienti, energici e competenti, in un momento assai critico per la vita nazionale. Il popolo indiano ha perso un vero nazionalista religioso, comandante in capo dell'esercito e personalmente ho perso un caro amico. Conobi Joshi nel 1992 Aveva studiato gli insegnamenti di Ramana Krishna, Vivekananda, Sri Aurobindo, Ramana Maharshi e Krishnamurti. Qualcuno li diede dei libri di Vimala. Li studiò per sei mesi, poi prese l'aereo da Adeli per incontrarmi. Passammo assieme due lunghe ore. Voleva discutere come inserire lo studio della mente e la meditazione nel programma di addestramento dell'esercito. Era un uomo molto intelligente, quasi uno studioso e un indagatore di chiara sincerità. Alla fine del nostro dialogo disse Forse, quando sarò andato in pensione, verrò a trascorrere qualche giorno con voi. Sei mesi dopo, e alcuni dei presenti lo ricorderanno, inviò a Dalhausi un suo delegato. Con mia immensa sorpresa e gioia, mi mandava la bozza del nuovo programma di addestramento. Ma questa è la vita. Nelle ultime due settimane ho perso due amici davvero preziosi. E il 7 novembre ho perso Premvai del Vanavasi Sevashram di Mirzapur, nell'Uttar Pradesh. Lui e la moglie avevano lavorato con me e Premvai era venuto a Delhi solo il 16 ottobre per parlare con me di alcune cose. Questa è la vita. Perciò è terribilmente urgente imparare a vivere, perché la morte ci accompagna, è imprevedibile. In questi giorni abbiamo parlato della libertà, della verità, dell'amore e della compassione. Questa mattina vogliamo esaminare il fatto della schiavitù, invece dell'idea di libertà o di verità? L'esame della libertà si fonda sulla comprensione e sulla consapevolezza della natura della schiavitù, del contenuto della schiavitù? Siamo consapevoli del motivo della nostra spinta a essere liberi? Che cosa ci ha sottratto la dimensione della libertà? Perché nella nostra vita non c'è amore, non c'è la grazia e la tenerezza dell'amore? La spinta alla libertà Amici miei, comprendere la natura della schiavitù è l'inizio della libertà. La comprensione del contenuto della schiavitù si trasforma in una reale spinta alla libertà. Dobbiamo avere la certezza di volere davvero la libertà, la liberazione, l'emancipazione, mukti, moksha, nirvana, o come preferite chiamarla. La vogliamo davvero? O stiamo seguendo un'indagine religiosa solo perché siamo nati in India? Ed è di moda fare così, perché l'emancipazione, mukti, è quasi un dovere e tutti devono cercarla. Ne abbiamo letto, ne abbiamo udito parlare. Quello che vogliamo è uniformarci alla tradizione, cercarla per conformismo e per far parte della maggioranza, perché il discorso religioso più alla moda è parlare del nirvana, dell'emancipazione, del samadhi. Ci volgiamo alla sadana o indagine per supina accettazione di ciò che c'è stato inculcato dai nostri genitori, dalla scuola, dai centri religiosi, dai libri e dai cosiddetti santi? È un'accettazione passiva? Miei cari amici, se ci volgiamo alla sadana per accettazione passiva, spinti dall'autorità della tradizione, il nostro processo di ricerca non avrà vitalità. La vitalità viene quando c'è una spinta personale a scoprire la libertà per amore della libertà e non perché sia santa o sacra o perché è un dovere, qualcosa che si deve fare. L'accettazione dell'autorità sgretola ogni vitalità. Mi rivolgo alla sadana o indagine religiosa perché il mio matrimonio è fallito e questo fallimento mi brucia quotidianamente e così mi rivolgo a qualche ashram religioso o a qualche shuami. È la reazione a un fallimento matrimoniale, a un fallimento economico? L'indagine religiosa, la spiritualità, non è un rifugio, non è una via di fuga, non è un rifugio da cercare in seguito a un fallimento. Se è così, la spinta e la vitalità dell'indagine dipenderà dalla forza della reazione. Se incontriamo una persona che psicologicamente fa il nostro caso, proviamo un senso di autocompiacimento, di aver trovato, di essere arrivati. Perciò, la reazione non va confusa con la spinta. Un'abitudine nata dal conformismo tradizionale non va confusa con la spinta a scoprire la libertà. Dobbiamo esaminare la realtà della nostra vita e scoprire che cosa manca, dov'è la schiavitù, come si è prodotta e come sussiste. Avendone visto la presenza, perché e in che modo la lasciamo sussistere, dobbiamo affrontare i fatti della vita. Vivere disordinatamente. Mi rivolgo quindi a me stesso, alla mia vita quotidiana, al tessuto, all'intreccio dei miei rapporti con gli altri e li osservo per comprenderli. Metto da parte il tema della pace, del silenzio, della meditazione, della libertà. Mi dico, mettiamoci di fronte ai fatti. Dov'è la schiavitù? Che cosa chiamo schiavitù? Qual è il motivo per cui non c'è libertà? E dopo aver osservato la mia vita quotidiana, comprendo davvero che è proprio il mio modo di vivere casuale, disordinato e trasandato è la schiavitù? Agisco come voglio e quando voglio, che si tratti di mangiare, dormire, parlare con gli amici, trascorrere le vacanze. Di che tipo è il mio rapporto con la vita? C'è ordine nella mia vita? Se scopro che non c'è ordine, che c'è disordine, caos, anarchia a livello fisico, lo giustifico o vedo che è questa la schiavitù? Qualunque disordine genera caos. Qualunque disordine porta all'anarchia emotiva e al caos intellettuale. Non c'è ritmo nel vivere. Ordine e ritmo procedono assieme. Non è la disciplina del prendere un voto, seguirlo e osservarlo. Questo non è ordine. L'ordine è il profumo della comprensione. L'ordine ha la grazia della spontaneità, dell'assenza di sforzo. Capisco che questo modo di vivere caotico, trasandato e disordinato, a livello sensoriale, verbale e mentale è la schiavitù? Vedo da me e non perché lo dicono i testi religiosi, vedo da me che mi priva dell'iniziativa spontanea? La libertà è avere l'iniziativa, un'iniziativa intatta e totale. Invece, i modelli abitudinari e il modo disordinato di vivere creano determinate compulsioni, stimolano determinati impulsi e il mio comportamento diventa impulsivo. L'impulsività genera impazienza. L'impazienza porta ad un comportamento privo di equilibrio. È semplicissimo. Capisco che l'impazienza, lo squilibrio è la schiavitù? Oppure li giustifico. Vi prego di osservarlo bene. Ma l'osservazione non ci sarà d'aiuto se non vediamo i contenuti e non comprendiamo le reali implicazioni. Se la schiavitù, la spina della schiavitù, non ci ferisce in profondità, non sentiremo lo stimolo a liberarcene. Diremo «Sì, ho capito, è una schiavitù». E la cosa finisce qui. La gente vive così. È il suo modo di vivere. I nostri antenati hanno vissuto così. Lo sapete, difese e giustificazioni sono sempre pronte. Difendiamo ciò che facciamo, lo giustifichiamo. Il modo in cui parliamo, le parole che usiamo, i nostri atteggiamenti, e il nostro modo di avvicinarci alle cose. Se continuiamo a giustificare la schiavitù, a difendere la schiavitù, se continuiamo a trovare nella schiavitù una sicurezza, come potrà esservi un'indagine, una ricerca degna di questo nome? Quando, invece, ho compreso la natura della schiavitù, quando le catene e le pastoie imposte alla mia psiche mi feriscono, quando lo squilibrio e l'impazienza espresse dal mio comportamento feriscono la mia dignità e la mia retitudine, allora da questo felice dispiacere, da questo acuto dispiacere, prende corpo la spinta la sabana, la spinta l'indagine. Altrimenti sarà soltanto una fiammata emotiva, un fatto verbale, una tensione neurologica in più nel nome della sabana. Vi prego di capirlo, di capirlo bene. Non vogliamo aggiungere tensioni e pressioni a quelle che già abbiamo. Dio non deve diventare un problema in più. Ci creiamo i problemi da noi stessi, tutto ciò che tocchiamo diventa un problema. In quest'ultima giornata, prima di separarci, un suggerimento da amica. Praticare la sadana solo se c'è questa spinta personale e non come una reazione a qualcosa che è accaduto, perché la libertà è molto pericolosa. È vulnerabilità alla vita in tutti i sensi della parola e l'abbandono del senso di appartenenza alle recinzioni in nome della famiglia, del gruppo, della nazione, dell'ideologia. È assenza di difese, vulnerabilità, appartenere alla vita che tutto abbraccia, oppure non appartenere a nessun luogo, ma senza più alcun esclusivismo, nel senso di appartenenza che chiude invece di aprire. La libertà è pericolosa, non è qualcosa con cui giocare distrattamente. la verità è contemporaneamente creativa e distruttiva, dardeggia nella coscienza, distrugge le illusioni su noi stessi, demolisce le immagini che abbiamo costruito su di noi. È non sempre piacevole, non sempre comoda e il sorgere della verità può essere doloroso. Che cosa farò? Se ho visto che è un'esplorazione pericolosa, che abbatterà tutte le immagini che ho costruito di me stesso e che gli altri hanno costruito su di me, che cosa farò? Viviamo nella gabbia delle nostre immagini, costruite dagli altri, accettate da noi e costruite anche da noi. Se la spinta è sincera e se non ho paura di essere vulnerabile e priva di difese, l'innocenza è assenza di difese, che cosa farò? Da dove inizierò? Se presto attenzione a tutti i punti che abbiamo elencato, se faccio così, non mi preoccupererò della libertà né della meditazione o del samadhi, affronterò ogni filo di schiavitù momento per momento. ovvero mi educherò a un modo ordinato di vivere, a un modo ordinato di parlare, a un modo ordinato di pensare. L'eliminazione del caos, l'eliminazione dell'anarchia è la creazione dell'ordine. L'ordine non ha uno schema prestabilito, ma posso riconoscere il disordine e dire bene, da oggi non ci sarà più questo disordine, questa trasandatezza, questo posporre le cose. Vedo che le cose giuste vanno fatte nel modo giusto e nel momento giusto. E chi deciderà che cosa è giusto? Io stesso, perché io conosco la mia situazione familiare, io conosco il mio lavoro e le sue pressioni su di me, io conosco le mie stesse peculiarità, perciò sarò io a scoprire che cosa è giusto, quali sono le giuste cose e il modo giusto per farle. La sadhana come sostegno ognuno deve tracciare la direzione della propria sadhana a partire dal proprio passato. Non c'è una rotta valida per tutti. C'è una rotta prestabilita se studiamo il mantra yoga che lavora con l'energia del suono o se pratichiamo il tantra yoga che lavora con l'energia sessuale. C'è una rotta se studiamo l'ata yoga il tantra yoga il mantra yoga o altre pratiche e discipline in cui dobbiamo seguire le norme indicate dagli shastra. Ma il passato di ogni individuo ha una struttura diversa e i condizionamenti hanno un modello diverso una diversa struttura perciò dobbiamo tracciare la direzione della nostra sadhana usando i nostri materiali come se scolpissimo una statua dipende dal materiale pietra bronzo o quant'altro conoscendo il materiale potete usarlo nel modo giusto perciò dovrò capire quali sono i miei condizionamenti sono nata in una famiglia hinduista in una famiglia vaisnava in una famiglia gioinista in una famiglia musulmana in una famiglia buddista qual è il mio retroterra qual è la natura dei miei condizionamenti ho visto il disordine e ora voglio farla finita con il disordine il caos mi rivolgo quindi ai miei condizionamenti che hanno prodotto il disordine tendenze sforzi eredità biologiche e psicologiche abitudini ereditate e abitudini coltivate da me considero tutti questi condizionamenti considero il mio carattere la mia struttura caratteriale se ad esempio ho un carattere molto emotivo potrei ricorrere all'energia del suono potrei cantare salmodiare recitare in modo che le emozioni sparpagliate in varie direzioni vengano riunificate e in modo che la mente inquieta la mente impulsiva si plachi e si tranquillizzi uso l'energia del suono in tutti i modi adatti ai miei condizionamenti potrei suonare il sitar o il flauto e suonando far confluire tutta l'agitazione e l'inquietudine della mente nella musica se non so suonare posso ascoltare ricorro all'ascolto se so dipingere prenderò pennelli e colori e concentrerò la mente in un punto l'energia sprecata l'energia sparpagliata in varie direzioni viene concentrata in un punto il mezzo per quietare la mente e aiutarla a entrare nella non azione differisce da individuo a individuo amici miei qualunque sadana è solo un sostegno un aiuto questo è il suo significato perché interiormente non c'è nessun luogo in cui arrivare e niente da raggiungere interiormente c'è solo il comprendere che cosa sia la vita che cosa siamo noi e vivere questa comprensione la spiritualità non ha niente a che fare con il divenire l'ottenere e l'arrivare è essere ciò che siamo perciò i mezzi derivano dai nostri condizionamenti uso il passato con abilità e trasformo la schiavitù in un sostegno questa è l'arte della rivoluzione della rivoluzione psichica molti di voi ricorderanno ciò che soleva dire il Mahatma Gandhi egli diceva io sono un artista della rivoluzione trasformo le difficoltà in possibilità se il passato è il materiale del mio essere neurochimico e se non posso gettarlo via l'unica possibilità che mi resta è utilizzarlo per la libertà perciò deciderò quale mezzo mi può aiutare a placare i nervi tormentati a pacificare la mente tormentata a rilassare la mente a unificare l'energia e a concentrarle sulla non azione che prezzo siamo disposti a pagare se l'ultimo punto è chiaro procedo ulteriormente chiedendomi quanto in là voglio spingere mi sul sentiero della libertà della verità e dell'amore che prezzo sono disposta a pagare paghiamo sempre un prezzo andiamo a scuola per 10 12 15 anni per conseguire una laurea per poter ottenere un lavoro paghiamo un prezzo quando ci sposiamo per la comodità e la sicurezza della vita matrimoniale paghiamo il prezzo della limitazione della nostra libertà dell'adattamento al carattere degli altri membri della famiglia a chi si paga il prezzo a noi stessi e qual è il prezzo il prezzo è vivere la libertà non appena la si comprende senza badare alle immediate conseguenze e agli inconvenienti che ne derivano senza badare e alle incomprensioni e ai fraintendimenti del mio comportamento da parte delle persone vicine e delle persone care la verità va vissuta non è la descrizione verbale di un'idea è il nostro modo di rapportarci alla vita e perciò va vissuta sono disposto a vivere la verità nella vita quotidiana nei problemi quotidiani della vita facciamo un esempio avevo un amico oggi scomparso era una persona onestissima un funzionario governativo la vostra amica Vimala ha molti amici tra funzionari del governo politici musicisti peccatori santi e altri ancora ogni volta che ci incontravamo si lamentava si lamentava della corruzione della società di quanto fosse ferito e addolorato di cosa fosse accaduto ai valori morali di questo paese e di cosa fosse accaduto a una nazione così religiosa si lamentava continuamente e io gli dicevo amico mio la cosa migliore che tu puoi fare è vivere tu questi valori perché guardare gli altri perché ti interessa tanto cambiarli e migliorarli se vuoi mantenere il tuo equilibrio vivi tu i valori che vorresti vivessero gli altri e la discussione continuava purtroppo accadde che uno dei suoi figli si appropriò di una grande somma di denaro e andò a chiedere aiuto al padre il padre che si lamentava della corruzione e del deterioramento dei valori morali non vide nel figlio un cittadino indiano e non si rifiutò di coprire l'ammanco vendete i gioielli ritirò i depositi bancari non ancora maturati e così via non vedeva nel figlio un cittadino indiano come tutti non vedeva il suo deterioramento morale vedeva il figlio non viveva la verità di cui mi aveva parlato per anni avete capito che cosa intendo per pagare il prezzo se vedete che i confini nazionali i confini degli stati sono una creazione degli uomini potete ancora identificarvi con la nazione indiana e dire io sono un indiano sono un nazionalista o direte sono indiano di nascita ma ho trasceso queste identificazioni e sono un essere umano che appartiene alla famiglia umana globale se dico di essere un nazionalista vivrò il nazionalismo nella mia vita quotidiana o quando arriva il momento del matrimonio per mia figlia o mio figlio mi rivolgerò alla mia casta da un lato sostengo che il sistema delle caste l'autonomismo danneggia il nazionalismo ma per il matrimonio di mia figlia o di mio figlio ritorno alle caste capite scusatemi amici miei ma questa è ipocrisia vivere da ipocriti in varie aree economica sociale familiare religiosa e così via e parlare di indagine spirituale è una cosa senza senso quindi quando comprendo la verità la devo vivere e pagare il prezzo altrimenti la verità diventa una forza distruttiva così come la luce del sole annienta le tenebre l'energia della verità distrugge interiormente le illusioni anche se esternamente non lo accettate vi traffigge e rende la vostra vita infelice non aggiungete altra infelicità a quella che già esiste la religiosità è la fine dell'infelicità e della sofferenza psicologica non vogliamo aggiungerne altra parliamo di libertà assoluta incondizionata parliamo di meditazione di samadhi e così via ma siamo pronti a vivere tutto ciò diventerò un nessuno un niente e forse la meditazione mi farà capire che la vita non è altro che nulla vacuità è un'immensa vacuità e noi facciamo organicamente parte di questa vacuità di questo nulla vogliamo essere qualcuno nella società ma la verità ci fa vedere che non c'è nessuno che l'identificazione con un nome con un corpo che questa identificazione con caratteristiche azioni e risultati è un gioco inventato dall'uomo non ha realtà ha utilità sociale ma non realtà se questo viene visto che cosa accade al materiale interiore della coscienza il materiale interiore della coscienza diventa la consapevolezza del nessuno la consapevolezza del nulla silenzio rivestito di carne e ossa non esattamente piacevole vero? rapporti e solitudine ora veniamo a un approccio ancora più pragmatico alla vita quotidiana vivo è il rapporto la vita è il rapporto ogni giorno passo attraverso rapporti di vario tipo come marito padre madre cliente avvocato industriale uomo d'affari e così via rapporti c'è una dinamica dei rapporti la vivo in modo sano razionale logico senza un io senza ingannare o truffare nessuno vivo in modo sensato da persona responsabile vivo tutto ciò ma il rapporto è solo una dimensione della vita l'altra dimensione è la solitudine perché quando sono nato non ero né un marito né un padre né una madre né un uomo d'affari né un insegnante né un contadino e così via nel mio io c'è un'essenza per nulla collegata ai ruoli che incarno nella vita né ai rapporti che devo sostenere questi rappresentano la crosta esterna la buccia protettiva ma la solitudine che cosa sono quando non sono un hinduista un indiano un maschio o una femmina una madre o un figlio se tutti questi ruoli aggiuntivi sono spazzati via che cosa resta di me se non l'umanità cioè la forma che la divinità ha volontariamente assunto la divinità si è rivestita di una forma umana una splendida forma umana la forma di vita più complessa ed evoluta il rapporto è quindi un aspetto una dimensione e l'altra è la solitudine spogliarsi del senso della relazione è solitudine vivo questa solitudine perché la libertà è equilibrio bilanciamento spontaneo la solitudine e il movimento di relazione devono essere bilanciati devono trovare un equilibrio non contraddizione conflitto o lite non devono essere incompatibili ma complementari e integrati trascorro parte del mio tempo nella solitudine o dico di non avere tempo siamo abituati a parlare siamo dipendenti dalla verbalizzazione parliamo persino nel sonno la parola che è originata dal suono è in se stessa un'estensione del silenzio disegnate un punto su un foglio e allungatelo diventa una linea così il suono è l'estensione del silenzio e la parola è la manipolazione dell'energia sonora parlo tutto il giorno e ascolto altri che parlano tutto il giorno dov'è il silenzio quella sorgente del suono e della parola che è anche l'essenza del mio essere vivo in quella sorgente sono in rapporto con il suono privo di parole e libero da parole con il silenzio libero da suono non ho mai tempo da trascorrere in quello stato mi muovo in continuazione fisicamente a livello sensoriale poi a livello verbale e a livello mentale il movimento il moto è una dimensione della vita e il non movimento è l'altra la nostra vita è unilaterale assimetrica ci interessano la parola il movimento e il rapporto e non il non movimento e il silenzio e la solitudine ma appena queste due dimensioni vengono equilibrate armoniosamente si produce il silenzio si produce la pace la pace non può essere cercata la libertà non vive in un vuoto sono entrambe il prodotto del nostro rapporto con la vita vivere la priorità assoluta mi educo a rapportarmi al silenzio alla solitudine e al non movimento fisico verbale psicologico e mentale ho il tempo di farlo ho un lavoro devo cucinare devo prendermi cura del marito e dei figli non ho tempo devo occuparmi di mia moglie e dei bambini così la priorità rimane intellettualmente ma nella vita quotidiana è all'ultimo posto che triste situazione ma se la priorità mentale diventa la priorità emotiva e se questa priorità emotiva diventa anche la priorità pratica allora la viviamo se manca il senso dell'urgenza di vivere questa priorità l'indagine non sboccerà mai nella comprensione la priorità va vissuta non posso dire che il cambiamento è la mia priorità principale che la mukti o il moksha è la mia priorità suprema e puoi dedicare 16 ore al giorno a fare soldi a preoccuparmene e ad angustiarmene oppure a preoccuparmi per la famiglia perciò per vivere la mia priorità devo organizzare la mia vita così siamo arrivati all'ultimo punto dobbiamo organizzare la nostra vita organizzare la nostra giornata la priorità suprema va vissuta ogni giorno dobbiamo viverla mentre laviamo il corpo mentre vestiamo il corpo mentre nutriamo il corpo viviamo il rapporto con la nostra famiglia il lavoro l'ufficio gli affari e quindi viviamo anche il rapporto con la divinità nessun procrastinare nessun posporre oggi domani e un giorno dopo l'altro ma oggi ho un ospite e domani ho mal di testa e dopo domani sono troppo stanco troviamo delle scuse e la cosiddetta indagine rimane prigioniera dell'intelletto dell'idea della teoria rimane imprigionata a livello intellettuale a volte a quello emotivo e non accade niente ma se vogliamo che si manifesti nella vita l'indagine va vissuta a ogni livello della vita va riferita a tutto ciò che facciamo è la relazione della comprensione con l'atto del vivere che produce la vera comprensione allora metteremo l'aroma della consapevolezza in tutto ciò che facciamo amici miei c'è il domani e il dopodomani il mese prossimo e l'anno 21 per quanto riguarda il livello materiale e il livello fisico della vita e noi ci muoviamo nel tempo cronologico ci muoviamo però anche nel tempo psicologico ma quando si arriva alla scoperta della natura della realtà al mistero della vita al suo significato non c'è più alcun domani il rapporto con il domani appartiene al livello psicofisico ma al livello di ciò che trascende la mente e il cervello di ciò che trascende il conosciuto in questa dimensione la moneta del tempo psicologico non ha più valore il domani non ha più valore nel campo dell'indagine nel momento stesso in cui dico lo farò domani sto avvalorando la continuazione del modello abituale lo farò domani significa che continuerò fino a domani a fare come oggi vi prego di veterlo avvaloriamo la continuità del passato decidendo domani gli forniamo carburante per gli acquisti per l'organizzazione delle faccende materiali per fare provviste e così via per occuparci di doveri sociali il domani esiste è necessario a tali funzioni ma per l'attività psichica per l'attività dell'indagine per il movimento dell'indagine non c'è domani perché domani è solo un'idea qualunque cosa vada fatta va fatta nel presente senza tempo che è semplicemente l'emanazione dell'eternità non so che cosa è stato detto da me e attraverso di me dal giorno 14 chi di voi è intervenuto per la prima volta può aver sentito in me un'intensità forse sgradevole qualcosa di brusco o di eccessivamente diretto ma io sento ogni incontro come dei veri sadaka mumukshu indagatori come se fosse l'ultimo incontro non ho mai di peso dal domani vedendo tante persone provenienti da tutti gli strati sociali venute da Bombay da vari luoghi del Gujarat e da altri paesi non posso offrirvi troppo poco vi sono grata per avermi dato l'opportunità di condividere con voi il nucleo più profondo del mio essere per quanto è possibile attraverso le parole se la sensibilità di qualcuno è stata ferita la colpa non è mia ma della verità grazie a tutti voi monte abu 19 novembre 1994 ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di Doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo nel prossimo video ciao